Il futuro del Made in Italy rischia una brusca frenata a causa dell'accelerazione nella diffusione del Covid. È l'allarme lanciato da filiera Italia. Per l'associazione di categoria la produzione agroalimentare italiana e la crescita dell'export potrebbero essere messi in ginocchio dalle assenze per le quarantene Covid, che possono interessare anche il 30% dei lavoratori del settore. Secondo Goldman Sachs, l'Italia è uno dei paesi europei potenzialmente a più forte crescita per l'anno in corso e per il prossimo anno, ma vanno evitati strozzature e colli di bottiglia lungo la filiera produttiva già messa in difficoltà dall'aumento dei costi dell'energia. Per filiera Italia, se non vogliamo subire gli effetti di uno stop su crescita e produzione, è sempre più stringente la necessità di rendere obbligatoria la vaccinazione per tutti e ridurre al minimo i vincoli di quarantena anche per i positivi. L'estensione ulteriore dell'obbligo vaccinale, secondo l'associazione di categoria, permetterebbe di andare verso il modello spagnolo, riducendo quindi gli obblighi di quarantena e di isolamento anche per chi si infetta. Per filiera Italia non esiste strada alternativa o il rischio sarà quello di bloccare tutto, considerando che secondo l'OMS, oltre la metà della popolazione europea sarà con estrema probabilità contagiata da Omicron nelle prossime 6-8 settimane.